3 3 1 7 3 7 8 0 3 3 questo è il nostro numero di telefono non ho ancora neppure lanciato appunto ripetendovi quello che diciamo sempre ogni giorno cioè potete anche voi interagire ma voglio ripetere invece un elemento che potete inserire quello delle vostre vacanze a volte abbiamo fatto qualche come dire puntata monografica dei vostri scatti vi è piaciuto seguire i suggerimenti dei colleghi che saluto naturalmente nuovamente che ritroverete alla guida di questo programma ben presto ma io penso che qualche vecchia foto delle vacanze magari in un tempo differente da quello di oggi quando forse il sole mordeva meno ma soprattutto le vacanze duravano anche di più per mille motivi potrebbe essere utile appunto da rilanciare intanto ringrazio non so se è già andato in vacanza il mio ospite che mi ha raggiunto in studio il dottor nicola potenza ben arrivato buongiorno e grazie dell'invito abbiamo avuto a pochi chilometri da qui sabato sera un evento molto interessante di respiro sicuramente non locale vogliamo raccontarlo e soprattutto vogliamo tra poco anche scoprire a che cosa è servita questa vetrina assolutamente grazie dell'invito della della domanda io faccio parte di un'associazione di una ets di un ente del terzo settore si chiama mente pubblica è nata nel 2020 con dalla presenza di 18 under 38 è un think tank quindi significa che il nostro obiettivo è quello di portare all'interno del territorio all'interno delle comunità delle discussioni da cui poi far emergere delle politiche di genere delle politiche da lanciare a livello locale ma anche a livello nazionale e quindi sabato scorso all'interno dello splendido santuario di san matteo apostolo abbiamo organizzato questo evento su due temi fondamentali l'inclusione e l'accoglienza dei migranti lo abbiamo fatto in stretta collaborazione con i frati minori del santuario e anche con il rotary club di san giovanni rotondo è stata una serata bellissima una serata che ha visto la partecipazione di diversi attori tra cui diversi sindaci il sindaco di san marco e lamisi sindaco di san giovanni rotondo il sindaco di san nicandro garganico di monte sant'angelo di tantissimi enti del terzo settore della diocesi di foggia bovino della diocesi anche di manfredonia san giovanni vieste e quindi è stato un momento in cui ci siamo fermati per qualche ora e abbiamo discusso di un tema che è fondamentale di cui forse noi nel nostro territorio dobbiamo ancora scoprirlo ovvero quello della presenza di tanti migranti nel nostro territorio e quindi quelle che possono essere le politiche affinché questo tema venga trattato in un modo diverso in un modo sistemico proprio per portare alla città prima di tutto dei benefici sotto tutti i punti di vista quindi voi siete un fattore diciamo che fa fermentare le diverse realtà della pasta generale della comunità della società e quali sono invece gli elementi secondo lei più impellenti da modificare in questa grande realtà prima di tutto bisogna sedersi e insieme farlo e studiarlo non a caso noi oltre all'evento serale c'è stato un laboratorio una masterclass la mattina dove ci siamo seduti tutti intorno a un tavolo tutti istituzioni enti enti del terzo settore associazioni e abbiamo cominciato veramente a dialogare quello che è emerso prima di tutto è il fatto che ognuno cura e lavora in questo ambito in maniera singola non c'è una visione di sistema non c'è un modo in cui tutti devono lavorare e non a caso il grande tema che è stato lanciato dal tavolo mattutino già ripreso da diversi giorni su quotidiani su testate locali anche nazionali quello di istituire all'interno del santuario di san matteo apostolo un osservatorio gargano quindi un osservatorio per conoscere e per accogliere dove veramente tutti ci sediamo e riusciamo a scrivere quelle che sono un po le procedure affinché tutti possano lavorare in maniera sistemica qui vediamo anche fra stefano de luca il guardiano appunto del convento del santuario di san matteo apostolo così splendido così ricco di cultura con la sua celeberrima biblioteca ma anche proprio guardando semplicemente a colpo d'occhio le mura la chiesa ci si commuove ecco perché la natura è come se si inchinasse facendo corona a questo luogo onestamente lo capisco quando qualcuno venendo qui a san giovanni rotondo e amando padre pio all'improvviso magari poi scopre monte sant'angelo da una parte e san marco il lamis dall'altra e ci guarda come per dire avete degli splendori avete dei giacimenti religiosi anche tutti molto vicini immagino che significhi qualcosa anche per voi è proprio così noi abbiamo scelto come location proprio il santuario di san matteo apostolo perché nasce come un edificio proprio di accoglienza non a caso durante i secoli ha ospitato e ospita ancora oggi tanti camminatori tanti pellegrini che sulle nostre strade sacre si incamminano verso il santuario di san cheele verso il santuario di padre pio quindi poi abbiamo avuto una bellissima un bellissimo dialogo di fra stefano in cui ha messo in evidenza quello che è la fenomenologia dell'accogliere è stata veramente una serata particolare una serata bellissima che ha visto anche la presenza di ospiti internazionali con noi abbiamo avuto anche laura lupi una psicologa venezuelana che attualmente vive a madrid che lavora in una delle più importanti organizzazioni mondiali proprio nell'accoglienza e nell'inclusione che è la cosiddetta ong for for immigrantis un'altra importante presenza è stata anche quella della presidente di ancipuglia fiorenza pascazio sindaca di bitetto ma soprattutto la presidente di tutti i sindaci della regione puglia in cui veramente abbiamo trattato i temi in maniera precisa poi tutta la serata è stata moderata da stefano campanella che ha portato ancor di più ai tavoli e alla serata una bellissima delle bellissime dei bellissimi dialoghi con tutti gli ospiti che sono stati presenti con noi e certo ringraziamo anche il nostro direttore sempre perché a volte passano appunto attraverso di lui determinate segnalazioni prima di lasciarla vorrei chiederle visto che papa francesco parla appunto di spalancare le braccia rispetto a certe realtà e soprattutto di cambiare sguardo per tutti noi e voi adesso da oggi in poi come cambierete quello che faremo è proprio quello di cercare fin da subito di trovare la modalità di istituire questo osservatorio lo chiedono in tanti lo chiedono prima di tutto gli enti gli attori che lavorano in questo ambito lo chiedono anche coloro i quali ci lavorano all'interno di queste strutture abbiamo avuto anche la presenza della referente caritas per per la diocesi foggia bovino abbiamo avuto anche la referente della della caritas per borgo mezzanone veramente c'è bisogno di sedersi intorno a un tavolo e di lavorare affinché possa veramente essere creato un modo sistemico per studiare per soprattutto valutare mettere in campo quelle che sono le politiche per le persone perché quello che è emerso durante quella giornata è che noi parliamo di persone dunque ormai confido che avremo sempre notizie aggiornamenti da voi anche per mettere alla prova appunto queste splendide intenzioni e anche parole di concretezza che lei ha portato qui oggi grazie 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 per invito grazie a lei e un saluto a tutti e i nostri telespettatori saranno tra poco protagonisti qualche fotografia è arrivata quindi alleggeriremo anche questa nostra lunga traversata attraverso appunto temi molto molto diversi tra loro e non mancheranno evidentemente ancora le ultime notizie io do la linea alla regia per qualche attimo di sosta